Campionati regionali a Gorla, siamo con Vlad Stefanescu. Come sono andati i tuoi campionati? Sono andati abbastanza bene, mi sono piazzato all'ottavo posto di questo campionato regionale, anche se potevo andare meglio, sono contento così. Ma il primo giorno hai gallopato poco? No, il primo giorno ho gallopato tantissimo, la categoria era caccia e se non commettevo errore sugli ultimi due salti, vincevo con 8 secondi dal primo, però ho toccato gli ultimi due salti ed eravamo in 35, mi sono piazzato quarto comunque. Senti, un ottavo posto in regionali però, grande risultati a Piazza di Siena. Sì, a Piazza di Siena ho fatto la gara riservata ai Poni, la più alta e ho vinto tutti e due i giorni e vincendo, ho vinto pure la classifica generale dell'ultimo giorno. Soddisfazione è tanta? Sì, tantissimo. Senti, che cavallo ho montato a Piazza di Siena? Ho montato il solito Poni che monto in tutte le gare riservate ai Poni nei circuiti grossi che si chiama Geronimo, lo stallone di 13 anni. Senti, prossimo appuntamento dove possiamo vederti ancora in sella? Sicuramente andrò a fare Sanremo tra due settimane, c'è un CSI e poi devo ancora vedere. Campionati italiani poi? Ah no, tu forse no. Forse li farò o forse no perché l'assoluto non l'ho potuto saltare in quanto monto per la Romania ma farò sicuramente i campionati italiani a Cervia se il criterium sarà in sabbia, se in erba non lo faccio. Ok, complimenti e grazie mille. Grazie a voi.